Buongiorno a tutti, si prosegue, si prosegue, sesto video di nottata perché ho fatto l'epilogo serie A del infrasettimanale, fantacalcio laghe, campionato inglese schedine del gigione, campionato spagnolo schedine del gigione, serie A schedine del gigione, adesso facciamo il campionato tedesco le schedine del gigione. Si parte alle 15, quindi come sempre cinque partite del sabato teoricamente, ieri si è giocato l'Everkusen Stokkart, è finita 0-0 e torna la maledizione del venerdì, seconda gara in under, la settimana scorsa 1-1, questa settimana 0-0, ncs non ci siamo, non ci piace questo andazzo, non ci piace, però sapete benissimo che se al venerdì fanno un under, al sabato e la domenica su otto partite almeno sette vanno in over, magari anche 2,5, 3,5, 4,5, in over minimo 1,5, ecco stiamo su 1,5, poi se vanno anche di over 2,5 tanto meglio, però teoricamente potrebbero andare tutti in over 1,5. Una che potrebbe andare sicuramente in over 1,5 è Bayer Monaco, Union Berlino, 1. Eintra, Francoforte e Bocco, anche questa può andare tranquillamente oltre l'over 1,5, 1 anche questa. Offenheim, San Paoli, 1x, perché questo San Paoli sta cominciando a risalire la classifica, l'Offenheim non sta facendo un gran campionato, quindi 1x. Olsen, Kiel, Aidenheim, vediamo se ha addirittura favorito l'Osen Kiel, pensate la squadra neopromossa favorita sull'Aidenheim, che quest'anno gioca pure le coppe. L'anno scorso arrivate in Conference League, dalla Serie B, sale in Bundesliga, primo anno arriva a conquistarsi la Conference, quest'anno. Quindi 1-2 ragazzi, 1-2 Osen Kiel, Aidenheim, Wolfsburg, 1x, do fiducia ai lupacchiotti. Anche se questo Augsburg è da prendere con le molle. Partita delle 18.30, libidine, Borussia Dortmund, Lipsia, 1x, 1x e vediamo cosa succede. Perché non mi sorprenderei se Lipsia andasse a vincere in casa del Borussia Dortmund, che quest'anno scalchigni un attimino, è un po' gambero per intenderci. Vince, perde, vince, perde, vince, pareggia, vince, perde, pareggia, non ha un po' di continuità come gli anni passati. Proseguiamo con Friburgo, Mainz, 1, molto rischioso ma mi ha rischio l'uno. E Borussia, Mönchengblaba, Werder Brema, 1x e qua temo che possa uscire fuori una partita ricca di reti o uno squallido 0-0 o una vittoria di misura di una delle due, tipo una 0-0-1. Sono molto dibattuto su questa partita. Comunque, questi sono i pronostici, adesso andiamo a fare la schedinazza alternativa. Cos'è la schedinazza? In modo di dire schedina in maniera volgare. Ecco, no, perché ogni tanto mi chiede a Gigi cos'è la schedinazza. La scadina mi ha detto volgarmente. Bayer, Monaco, Union, Berlino, over 3,5. Al Gigione piace il rischio. Over 3,5 dato a 2. Eintra, Francoforte, Bocum. Over 3,5, perché anche qui al Gigione piace il rischio. E dirvi, over 2,5 a 1,35, gli cadono i maroni e gli rimbalzano dove non batte il sole. Indi per cui Over 3,5, Aintra, Francoforte e Bocum, A 1,99. Vabbè, poteva mettere a 2, non è che morivano per 1,0,01. Sorvogliamo. Offenheim-Sanpaoli, gol a 1,50. Osterkiel-Heidenheim, gol a 1,55. Wolfsburg-Ausburg, over 2,5 a 1,60. Borussia Dortmund-Lipschia, invece qua vado di combo, ragazzi, qua vado di combo, perché mi aspetto una partitona di quelle che proprio chi non è tifoso delle due squadre si diverte, chi è tifoso delle due squadre rischia l'infarto, perché sarà molto equilibrata, molto divertente e ricca di gol. Indi per cui gol più over 2,5 a 1,60. Non faccio il goloso mettere l'over 3,5, però per curiosity kill the cat, la curiosità uccide il gatto. Se qualcuno vuol fare il golosone, fare gol più over 3,5, è dato a 2,20, come le prese di corrente. Friburgo Mainz, allora Friburgo Mainz, torniamo alla normalità, non facciamo i golosoni, che è meglio. Sono dato troppo su, torniamo un po' più giù. Allora, tac, tac, come direbbe il buon pozzetto, tac, tac, però tac, deve anche muoversi il mio mouse, sei finito lì, bravo. Allora, dove eravamo arrivati? a Offenheim-Sanpaoli? No, no, a Borussia Dortmund-Lipschia, che vi avevo detto, adesso c'è Friburgo Mainz, giusto, viene un attimino disperso, vi ho detto, Borussia Dortmund-Lipschia, secondo me, sarà una partita da cardiopalma, piena di gol, poi vedremo, tanto, dieci ore più o meno, lo sappiamo, anzi meno, perché questo video uscirà intorno a mezzogiorno, o giù di lì, quindi, tempo, sì, manca una decina di ore, otto ore, più o meno, otto ore e mezza, Friburgo Mainz, gola, 1,65, che mi piace, e Borussia Mönchengblabba, Werder Bremen, vediamo un po', eh sì, over 2,5, 1,42, perché, ragazzi, proviamola, o gol o over 1,5, scegliete quella che vi piace di più, tanto le quote sono simili, sono intorno all'1,45 di una quota, quindi, se vi fa libidi nell'over 2,5, giocate l'over 2,5, se vi fa libidi nel gol, giocate il gol, non vado oltre l'over 2,5, perché ve l'ho detto, è una gara che, può succedere veramente di tutto, può finire 0,0, uno squallidissimo 0,0, così come può finire 3,2,3,2,3, eccetera, 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 vedremo, campionato tedesco di solito, non è, parco di gol, però ultimamente sto notando che, qualche 0,0 di troppo salta fuori, come ieri sera, e francamente, quando ho visto il risultato, ci sono rimasto piuttosto malino, ma ci vediamo, alla prossima, che sarà il campionato di serie B, ultimo video di nottata, così non vi lesiono più i testi, ciao!